L'articolo 49 del Codice della Navigazione Italiano non è in contrasto con il diritto europeo e quindi, a fine concessione, i balneari non potranno reclamare alcun indennizzo per le opere inamovibili che saranno incamerate dallo Stato. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia Europea rispondendo picche al ricorso presentato al Consiglio di Stato Italiano da una società titolare di uno stabilimento balneare di Castiglioncello. L'ennesimo granello di sabbia è un ingranaggio che fatica a funzionare e su cui deve intervenire il legislatore, dicono a caldo le associazioni di categoria dei balneari toscani che, proprio mentre veniva pubblicata la sentenza della Corte Europea, sono state ricevute dalla Seconda Commissione del Consiglio regionale. Oggetto della riunione un confronto sulla proposta di legge della Giunta Toscana su criteri e linee guida per le aste e, lupus in fabula, indennezzi. Una proposta targata Gianni Marras che sembrerebbe mettere tutti d'accordo, ma sulla quale al momento nessuno, né gli esponenti della maggioranza né quelli dei balneari, si sbilancia, visti i pesanti dubbi sulla costituzionalità della norma. Grazie. Grazie.